Griscia, un piccolo bimbo, paffuto, nato due anni e otto mesi fa, passezza con la bambinaia peliale. Ha indosso una lunga mantellina ovattata, una sciarpa, un gran berretto con bottoncino peloso e sopra scarpe felpate. Soffoca e sente caldo, e per giunta il sole d'aprile, che ha preso l'air, batte dritto negli occhi e punge le palpebre. Tutta la sua figura, goffa, sgambettante, timorosa e malsicura, esprime estrema perplessità. Finora Griscia ha conosciuto un sol mondo quadrato, dove in un angolo sta il suo letto, in un altro il baule della bambinaia, nel terzo una sedia e nel quarto arde il lumino. Se dai un'occhiata sotto il letto, vedrai un fantoccio con un braccio spezzato e un tamburo, e dietro il baule della bambinaia, moltissime cose varie, rocchetti del filo a pezzi di carta, una scatola senza coperchio e un pagliaccio rotto. In questo mondo, oltre la bambinaia e Griscia, vi è spesso la mamma e il gatto. La mamma assomiglia a una bambola, e il gatto ha la pelliccia del babbo, solo che la pelliccia non ha occhi né coda. Dal mondo, che si chiama camera dei bambini, un uscio conduce in uno spazio dove si pranza e si beve il tè. Ibi sta alla sedia di Griscia, su alte gambe, ed è appeso un orologio che esiste solo per dondolare il pendolo e suonare. Dalla sala da pranzo si può passare in una stanza dove stanno delle poltrone rosse. Lì sul tappeto nerezza una macchia, per cui tuttora si minaccia Griscia col dito. Dietro a questa stanza ce n'è ancora un'altra, dove non lasciano andare e dove si intravede il babbo, un personaggio in sommo grado enigmatico. La bambinaia e la mamma le si può capire, esse vestono Griscia, gli danno da mangiare e lo mettono a letto. Ma per che cosa esista il babbo? Non si sa. V'è ancora un altro personaggio enigmatico, è la zia che ha regalato a Griscia il tamburo. Il ora appare ora scompare. Dove sparisce? Griscia più di una volta ha sbirciato sotto il letto, dietro il baule e sotto il divano. Ma lei non c'era. In questo nuovo mondo poi, dove il sole buca gli occhi, ci sono tanti babbi, mamme e zie che non sai da chi correre. Ma più strani e assurdi di tutto sono i cavalli. Griscia guarda le loro zampe in moto e non sa capir nulla. Guarda la bambinaia perché quella risolva la sua incertezza. Ma lei tace. D'un tratto egli sente uno strano calpestio. Pelviale, a passo cadenzato, muove dritto su di lui una folla di soldati, dalle facce rosse e con gli scopetti da bagno sotto il braccio. Griscia si fa tutto freddo dallo spavento e guarda interrogativamente la bambinaia. Non c'è pericolo? Ma la bambinaia non scappa e non piange. Dunque non c'è pericolo. Griscia segue con gli occhi i soldati e comincia egli stesso a marciare a tempo con loro. Attraversano il viale di corsa due grossi gatti dai lunghi musi, con le lingue in fuori e le code levate in alto. Griscia pensa che gli pure debba correre e corre dietro ai gatti. «Ferma!» gli grida la bambinaia, afferrandolo ruvidamente per le spalle. «Dove vai? Che forse ti è permesso fare il monello?» Ecco una bambinaia seduta che tiene un piccolo mastello con arance. Griscia le passa davanti e in silenzio si piglia un'arancia. «Ma perché fai questo?» grida la sua accompagnatrice, battendogli sulla mano e strappandogli l'arancia. «Stupido!» Ora Griscia raccatterebbe con piacere un pezzetto di vetro che si trova sotto i piedi e che luccica come un lumino, ma teme che lo si picchi di nuovo sulla mano. «I miei rispetti!» sente d'un tratto Griscia, quasi proprio sopra l'orettio, la voce sonora piena di qualcuno, e vede un uomo alto, coi bottoni lucidi. Con suo gran piacere quest'uomo porge alla bambinaia la mano, si ferma con lei e si mette a discorrere. Lo sfolgorio del sole, il rumore delle carrozze, i cavalli, i bottoni lustri, tutto ciò è così mirabilmente nuovo e rassicurante che l'anima di Griscia si riempie d'un senso di delizia, ed egli comincia a rider forte. «Andiamo! Andiamo!» grida l'uomo dai bottoni lustri, tirandolo per la falda. «Dove andiamo?» domanda l'uomo. «Andiamo!» insiste Griscia. Gli ven voglia di dire che non sarebbe male prender con sé anche il babbo, la mamma e il gatto, ma la lingua non dice punto quel che bisogna. Dopo aver atteso un po', la bambinaia svolta dal viale conduce Griscia in un gran cortile dove c'è ancora la neve, e l'uomo dai bottoni lucidi va pure dietro a loro. Schivano con cura i mucchietti di neve e le pozze, poi, salita una buia, su di ciascala, entrano in una stanza. Là vi è molto fumo, odore di arrosto, e una donna sta presso la stufa e frigge delle costolette. La cuoca e la bambinaia si baciano, e insieme con l'uomo seguono su una panca e cominciano a parlar piano. Griscia imbacuccato sente un caldo e un'afa insopportabili. «Perché mai questo?» pensa, guardandosi intorno. Vedo un soffitto scuro, un forchetto con due corni, una stufa che ha l'aspetto di una grossa, nera cavità. «Mamma, mamma!» dice con voce strascicata. «Eh, ah, ah!» grida la bambinaia. «Aspetterai!» La cuoca posa sulla tavola una bottiglia, due bicchierine e un pasticcio. Le due donne e l'uomo dai bottoni lustri toccano i bicchieri e bevono varie volte, e l'uomo abbraccia ora la bambinaia, ora la cuoca. E poi tutte e tre prendono a cantare piano. Griscia si allunga verso il pasticcio e gliene danno un pezzetto. Egli mangia e guarda come beve la bambinaia. Anche a lui gli ha voglia di bere. «Dammi, gna gna! Dammi!» prega. La cuoca gli dà a sorbire dal suo bicchierino e gli sbarra gli occhi, fa smorfie, tossisce e a lungo poi agita le mani. E la cuoca lo guarda e ride. Tornato a casa, Griscia comincia a raccontare alla mamma, alle pareti e al letto, dove è stato e quel che ha visto. Parla non tanto con la lingua quanto col viso e le mani. Mostra come splende il sole, come corrono i cavalli, che aria paurosa ha la stufa e come beve la cuoca. La sera non può assolutamente pigliar sonno. I soldati con gli scopetti, i grossi gatti, i cavalli, il pezzetto di vetro, il mastellino con le arance, i bottoni lucidi. Tutto ciò si è raccolto in un mucchio e gli opprime il cervello. Egli si gira da un fianco sull'altro, si dimena e alla fine, non reggendo alla sua agitazione, comincia a piangere. Tu hai la febbre, dice la mamma, toccandogli con la palma la fronte. Per che motivo potrebbe essere successo? La stufa, piange Griscia. Via di qui, stufa! Probabilmente ha mangiato troppo, conclude la mamma. e Griscia, travagliato delle impressioni di una vita nuova, appena allora sperimentata, riceve dalla mamma un cucchiaio di olio di ricino. e Griscia. Grazie.